Non una, bensì due comunità unite nel dolore dopo il tragico incidente stradale sulla potenza Melfi. Piange e si stringe nel cordoglio per la morte dei tifosi del Foggia e di uno in particolare, il ventunenne Gaetano Gentile e anche Barletta. Antonio, il padre della giovane vittima e originario della città della disfida, nonché figura di spicco nella tifoseria bianco-rossa. Nelle ultime settimane inoltre non soltanto i sostenitori barlettani ma anche quelli di tante altre piazze italiane hanno espresso vicinanza al 57enne che sta lottando contro una lunga e dura malattia. Suo figlio Gaetano, tifoso viscerale del Foggia, lascia i suoi familiari e i suoi compagni di curva rossoneri ma anche tanti amici di Barletta con cui era legato a doppio filo. Un dolore atroce è quello che colpisce il capoluogo d'Auno e al quale si unisce anche quello della BAT, un'accesa rivalità quarantennale che in questi giorni viene messa in secondo piano dalle lacrime che accomunano le due tifoserie e le due comunità.